Cari amici di Agronotizie, ben ritrovati da Giuseppe De Vittis. Dopo questa fase molto movimentata con spesso delle perturbazioni nel Mediterraneo e quindi sulla nostra penisola da nord-centro-sud, un po' cambia la situazione, nel senso che ci saranno delle fasi un po' più lunghe e asciutte. Ma non illudiamoci ancora altre perturbazioni, transiteranno una debole nella giornata di lunedì, poi una pausa, ma torneranno, guardate, altre piogge, altre perturbazioni anche attorno al periodo dell'Immacolata e non solo delle piogge che attraverseranno il nord, parte del centro, un po' più ai margini il sud e tra l'altro a livello generale in questi 15 giorni il sud vedrà delle risalite anche di aria meno fredda e quindi un po' più umite dal nord-Africa. Al nord di Contro invece, oltre appunto alle piogge che transiteranno, si avvicinerà aria via via sempre più fredda. Sull'arco alpino già ci sono state delle nevicate, sull'arco alpino, sull'appennino, ma ci saranno delle nevicate sino a quote molto basse, molto basse. Anche sul lungo termine prevediamo una fase piuttosto mite sulle regioni meridionali e invece una fase piovosa e con della neve anche abbondante sull'arco alpino e quindi sul nord Italia. Per il momento mi fermo qui, buon proseguimento di giornata, arrivederci!